Desidero annunciare che dal 24 al 26 maggio prossimo a Dio piacendo compirò un pellegrinaggio in terra santa. Le tappe saranno tre, Hamam, Betlemme e Gerusalemme. L'annuncio tanto atteso è arrivato al termine dell'Angelus, accolto con entusiasmo dai fedeli che gremivano Piazza San Pietro, subito ripreso dai media in tutto il mondo. Papa Francesco sarà in viaggio in terra santa, tre giorni, poco più di 50 ore, un viaggio breve, un pellegrinaggio di preghiera dal significato ecumenico che in tutto si ricollega 50 anni dopo a quello di Paolo VI, il primo fuori dall'Italia e in terra santa di un Papa nel XX secolo. Gli anniversari hanno un grande significato, non a caso Papa Vergoglio ha voluto annunciare la sua visita proprio oggi, 5 gennaio, lo stesso giorno in cui nel 1964 Papa Montini a Gerusalemme incontrò il patriarca ortodosso Atenagora. L'incontro pose le basi per l'abolizione delle scomuniche tra cattolici e ortodossi, un passaggio fondamentale verso l'unità dei cristiani. Il colpo d'aratro che ha smosso un terreno indurito e inerte ebbe a dire Paolo VI. Su quel solco si innesta il grande incontro ecumenico che sarà celebrato da Papa Francesco presso il Santo Sepolcro, una celebrazione che riunirà tutte le chiese cristiane di Gerusalemme insieme al patriarca Bartolomeo di Costantinopoli. A Betlemme e Gerusalemme le campane hanno suonato a festa, la piccola, fragile comunità cristiana rincuorata già pensa ai preparativi per l'arrivo del successore di Pietro, vescovo di Roma, ambasciatore della pace e grande fautore del dialogo interreligioso. Quello di Papa Francesco in Giordania, Palestina e Israele sarà un viaggio denso di significati e non privo di insidie. La Santa Sede non ha mai riconosciuto Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele, la disciplina fiscale degli enti ecclesiastici, la restituzione del Cenacolo di Gesù restano tra i nodi risolti anche dopo le più recenti storiche visite di Giovanni Paolo II nel 2000 e l'ultima di Benedetto XVI, cinque anni fa.